Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Azumanga Dio Swimsuiti. Edizione Swimsuiti Azumanga Sakaki Dimensione corporea Altezza Circa 120 mm Lunghezza totale Circa 200 mm Boy fronte Et A partire dall'et Di 15 La paese principale produzione Cina Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione